La nostra interpretazione parte da un'idea abbastanza ironica sul concetto della mobilità, che in questo momento è un concetto molto molto diffuso. Abbiamo cercato innanzitutto di leggerlo attraverso il disegno e abbiamo disegnato un'idea di casa che partisse da un concetto di archetipo della casa fatto di profili, dove il profilo della casa in realtà è un profilo luminoso, un tratto di luce che potrebbe essere anche un tratto di disegno su un foglio e che contrappone fondamentalmente due ambienti, uno interno e uno completamente esterno però senza chiuderli. Il partner in questo caso è un partner molto particolare, è un partner che fa tecnologia mobile perché è Samsung e nello specifico viene presentato anche un nuovo telefono. In questo telefono hanno introdotto un sistema di slow motion molto avanzato. Tutti i gesti della quotidianità diventano estremamente lenti, un po' come se attraverso la lentezza, la percezione di un numero di fotogrammi molto alto al secondo, la quotidianità venisse riletta proprio come una percezione completamente diversa.